Una donna ha consumato una zuppa di carciofi comprata al supermercato, ma dopo averla assaggiata ha avvertito un sapore strano e ha chiesto alla figlia di provarne un cucchiaio. Poco dopo entrambe si sono sentite male. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove è deceduta poco dopo l'arrivo. Anche la figlia è stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche. Sono intervenuti i carabinieri dei NAS per indagare sul deterioramento del prodotto. Le analisi condotte dalla ASL e dai NAS hanno evidenziato la presenza del botulino nella zuppa. L'azienda produttrice aveva già ritirato l'otto coinvolto, ma i campionamenti hanno confermato la contaminazione. Secondo le ipotesi, il botulino potrebbe essersi sviluppato per conservazione scorretta. Le zuppe semifresche vanno conservate in frigor per massimo 7-10 giorni e una piccola perforazione nella pellicola sigillante potrebbe aver alterato il prodotto. La Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo. La Procura di Roma